Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, piano della mobilità per le festività natalizie, oggi accesso gratuito alla rete capitolina di trasporto, quindi sulle linee di Atac e Roma TPL, accesso libero anche sulla metro mare e sul tratto urbano della ferrovia Roma Nord. Sempre oggi potenziata l'offerta di trasporto, in particolare più corse sulla metro A e sul 19 linee di bus dirette in centro e verso le zone commerciali, da ricordare poi che sino al 7 di gennaio sono attive tutti i giorni tre linee di bus gratuite per la zona centrale della città, la Fri 1, la Fri 2 e la linea 100, mentre le zone a traffico limitato diurne di centro e tridente sono attive tutti i giorni, festivi compresi dalle 6.30 alle 20. Grazie. 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 Grazie.